Ciao a tutte e bentornati in questo nuovo video. Oggi un altro spacchettamento Gamax. Se vi ricordate, una settimana fa circa avevo già fatto uno spacchettamento sempre di Gamax. In quell'ordine avevo acquistato alcuni colori acrilici. Durante questa settimana ho avuto modo di testarli, quindi devo dire che mi ci sono trovata veramente molto bene. Perciò, approfittando ancora degli sconti che ci sono su questo sito, ho deciso di prendere anche gli altri colori. Più che altro perché ho intenzione di fare un corso e mi serviranno questi colori, quindi diciamo che ne ho approfittato. Questa è stata la scusa, il corso è stata sicuramente la scusa di questo acquisto. Molto ma molto gradito l'omaggio di questa volta. Ci sono all'interno dell'ordine due mascherine in omaggio e devo dire che sono veramente fantastiche, dato che si fanno fatica anche ad acquistare in questo periodo e sono carinissime. Perciò ringrazio veramente un sacco l'azienda. Ok, oltre a quell'omaggio c'era comunque anche questo che non so quanto si possa... è un fucsia comunque. L'altra volta avevo detto che quel colore si chiamava Roma. Ora mi viene un dubbio, credo che sia proprio la linea, perché vedo che anche questo si chiama Roma, ma il colore è totalmente diverso. Quindi comunque questo è lo smalto. Grazie anche per questo omaggio. E ora vi faccio vedere... ho preso prevalentemente, come vi ho detto, colori acrilici. Ho preso questo pennello. L'altra volta avevo preso il numero 5. Questa volta invece ho preso il 10 ed ha leggermente più... ha la punta leggermente più lunga rispetto a quello dell'altra volta, appunto. E anche questo credo mi sarà molto utile per il corso che devo fare. Quindi questo è il pennello, molto carino. Questo... ci sono ancora... ancora gran parte delle cose su questo sito sono al 50% di sconto. Infatti anche quel pennello l'ho pagato 6,50€. poi vi faccio prima vedere le decorazioni che ho preso e passo poi ai colori. Allora ho preso questi svaroschini, strass, queste nella misura SS6. Questi pagati ciascuno 92 centesimi, anche questi scontati sono 20 pezzi se non erro all'interno. Questi sono blu. Io ho poi presi rossi. Ah, vedo che c'è scritto anche sulla confezione che sono 20 pezzi. E poi questi. E questi invece sono neri. Questi tre che vi ho mostrato finora sono nella misura SS6. Anche questi. Questi sono una sorta di... scrivono giallo, ma in tutta onestà non mi sembrano gialli. Sembrano più un bronzo, marronci. Non saprei spiegarvi bene il colore, ma non sono gialli sicuramente. Solo che questi sono arrivati nella confezione doppia, che sono quelli anche delle confezioni che avevo preso l'altra volta, il pacco da 30 barattolini che avevo preso l'altra volta. Questi invece sono metà, però all'interno ce ne sono 20 pezzi sia nell'uno che nell'altro. Quindi vabbè. Comunque pagati tutti i 92 centesimi. L'altra volta mi ero scordata tra i colori che ho preso di prendere il rosso. Infatti questa volta ho preso appunto il rosso. Questi invece sono stati tutti scontati e anche questi li ho pagati 2,50 euro all'uno, come l'altra volta. Quindi ho preso il rosso, poi ho preso il viola, lilla, ghiaccio. Questo sembra molto un bianco, devo provarlo a vedere steso se è meno coprente rispetto al bianco che ho preso l'altra volta, però sembra veramente un bianco. Poco male perché il bianco serve sempre. Poi rosa, oceano, rame, oro, acqua marina, porcora e infine questi due hanno la confezione leggermente diversa, non so se si nota. Alla fine hanno lo stesso quantitativo all'interno, solo che hanno le confezioni leggermente diverse, solo questi due, non so per quale motivo. Comunque questo è il castano e salvia. Credo me ne mancasse qualcun altro, un azzurrino, un celeste, qualcosa del genere, che era molto simile a questo e forse basta, non lo so, forse pochi altri colori. Insomma un giallo che so che non c'era più e zafferano, mi sa che era il colore che avrei voluto, ma era finito anche quello. Comunque niente, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto questa volta e appunto l'ordine l'ho fatto appunto per questi colori che sicuramente mi serviranno. Hanno un ottimo prezzo, soprattutto in questo periodo, hanno veramente un ottimo prezzo e hanno una resa fantastica, a me piacciono veramente un sacco. Quindi niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze! Ciao ragazze!